Se sono stato invitato alla convention loro, non sono stato invitato, sono un gentiluomo come sapete, al limite vado se voglio occupare qualcosa, perché è sempre un anelito giovanile che ho avuto, ma non è questo il caso. L'incontro su Bagnoli dove si è convenuto che dobbiamo incominciare a far vedere alla gente che si è fatto un lavoro importante al di là della produzione significativa di carte, di accordi istituzionali, di intese e quindi la fine del 2019 e il 2020 devono essere gli anni in particolare della concreto inizio delle bonifiche su Bagnoli con un ruolo importante che deve svolgere tutta la struttura attuale. che va in questa direzione e poi a breve avremo l'esito del concorso internazionale di idee che può consentire l'apertura di un dibattito importante in città e quindi dimostrare che insieme si lavora bene.